Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di lunedì 20 aprile 2020. Cominciamo come sempre con il santo del giorno e le previsioni del tempo. Il santo di oggi ce lo propone il cartello con la scritta Santa Niceto Papa. Il sole è sorto alle 6.14 tramonterà due minuti prima delle 20. Per quanto riguarda il tempo oggi avremo precipitazioni diffuse di debole intensità con accumulate a fine giornata più abbondanti nei settori meridionali, le temperature minime in lieve diminuzione, quelle massime in ulteriore diminuzione che risulterà marcata soprattutto in montagna. Dunque avremo giornata di pioggia per quanto riguarda oggi ma anche domani. Non sarà tanto diversa la giornata così come mercoledì e probabilmente con fenomeni di esaurimento anche giovedì. Vedete per la giornata di domani ancora attività di pioggia con localmente anche carattere di rovescio. A fine giornata domani le accumulate continueranno ad essere più abbondanti sui settori meridionali della regione. Poi come dicevamo anche mercoledì e fenomeni di esaurimento nella giornata di giovedì. Allora questi sono i giornali di oggi, i giornali del lunedì che hanno una fogliazione diversa rispetto a quella della settimana. Quindi sono un po' più risicate le pagine dedicate all'informazione locale, alla cronaca locale. C'è lo sport anche se lo sport come sapete non si gioca. Allora andiamo a vedere i titoli. Il titolo del Corriere Adriatico, l'edizione di Pesaro, anziani, la strage e 200 morti. Le procure scoprono dall'Asur i dati agghiaccianti di RSA e residenze protette. 117 tra i positivi, altri 80 negli ospizi. Nei prossimi giorni prime perquisizioni dei NAS. L'epidemia continua intanto la frenata. Ora i guariti doppiano i ricoverati. A centropagina le mascherine gratuite, altro round di consegna dopo uno stop dovuto a problemi di fornitura. Riparte oggi e domani in otto quartieri di Pesaro la distribuzione gratuita delle mascherine da parte del Comune. Mentre c'è la storia del sindaco di Fermignano Feduzzi che dopo 40 giorni torna negativo e torna dunque al lavoro. Questo invece è l'arresto nel canino di Pesaro. La fotonotizia in primo piano è per coloro che si occupano degli anziani all'interno della casa di riposo fanese Famiglianova. Altri 15 anziani non ce l'hanno fatta purtroppo. Fragile fin dalla nascita. Lui stavolta si è dimostrato più forte del male. Chi è questo di cui si parla questa mattina? Questa persona che è ritornato a Famiglianova, questo signore che si chiama Angelo Morazzini, 70 anni, nonno Angelo che è il sopravvissuto. Adesso ovviamente tutti a fare il tifo per altre due persone che sono ricoverate e che sperano tutti quanti di rivedere all'interno della casa di riposo. Bonus spesa, verifiche antiforbetti. Da oggi controlli a campione del Comune su 130 famiglie. Chi ha dichiarato il falso ovviamente sarà denunciato. E poi il punto sulla situazione Covid in provincia, il mix lo fa il primario Frausini, il quale dice il mix di farmaci è utile ma non posso escludere una seconda ondata. Intanto sul fronte dei decessi siamo a quota 449 nelle Marche, altri 10 nella giornata di ieri. Addio anche a Paolo Ferri. E poi la battaglia vinta del sindaco, oltre un mese in isolamento, Fermignano, eccola qua, la foto di Feduzzi. E poi l'albergatore Amarotta che sfida tutti e apre le porte del suo hotel. E poi garantisco la sicurezza, fatemi riaprire l'azienda, l'appello di un piccolo imprenditore. Mentre la cassa integrazione, pioggia di richieste anche nella provincia, in deroga, cassa integrazione in deroga, fondi esauriti, lo Stato ci aiuti, i rossini della CGL, le imprese devono essere assistite anche con una minore tassazione. Dimessi e guariti in aumento, dimessi e guariti sono in aumento, sono il doppio dei ricoverati, liberi metà dei 170 posti in terapia intensiva. Ieri sono 45 casi positivi, uno ogni 24 campioni. L'incremento dei contagi nelle Marche è sceso allo 0,8%, contro una media nazionale dell'1,7%. Diminuiscono dunque gli operatori sanitari anche in quarantena, dopo i contatti a rischio. Altre 15 vittime del Covid, il totale sale dunque a 822, l'età media è di 80 anni. E questo è il dato, quindi vi ho detto un'imprecisione, 822 sono le vittime in tutta la regione, mentre il dato riportato qua, che vi ho dato all'inizio, in prima pagina, si riferisce alla provincia. Reparti e personale, per il San Salvatore è già tempo di fase 2, il graduale riassestamento avviato anche con il ritorno del blocco operatorio a Pesaro. A poco a poco anche urologia e neurochirurgia accoglieranno pazienti non contagiati. Dunque, come vedete, la buona notizia è che all'ospedale San Salvatore di Pesaro, ma anche il presidio di Fano, insomma, l'ospedale di Fano, si stanno lentamente riassestando, stanno rimettendo un po' in ordine tutto quello che avevano, tra virgolette, sbaraccato quando è arrivata l'ondata di persone da ricoverare in terapia intensiva. Hanno chiaramente smantellato i vari reparti, proprio per dare la possibilità di attivare queste nuove sale di terapia intensiva. Adesso, man mano che calano gli intubati, coloro che hanno bisogno di respirazione artificiale, eccetera, man mano che calano, si rimettono, si chiudono le terapie intensive temporanee, chiamiamole così, e si stanno riattivando i vecchi reparti, quelli che poi servono per mandare avanti l'ospedale nella sua ordinarietà. Gli teniamo testa, dice il dottor Frausini, direttore del Dipartimento Medico dell'Azienda Ospedaliere Marche Nord, rifarendosi al virus, però non è sconfitto. Distanziamento sociale, mix di farmaci funzionano, sì, l'allerta del primario, non possiamo escludere una seconda ondata. Certamente abbiamo capito molto meglio il comportamento di questo ragazzo, dice Frausini. Che ormai sta diventando adulto ed abbiamo imparato ad affrontarlo sulla base dell'esperienza che ci siamo fatti giorno per giorno al letto di questi pazienti così complessi. Riusciamo a prevedere e a trattare quelle numerosissime situazioni che evolveranno in maniera del tutto favorevole, ma anche quelle che rischiano di evolvere in maniera drammatica. Ma la vera grande sfida che dobbiamo vincere insieme è quella di non far diventare anziano questo maledetto virus. Se c'è tutta l'intervista che il resto del canino pubblica questa mattina, firma di Benedetta Iacomucci, è diciamo meno aggressivo questo Covid-19. Grazie anche, dice sempre Frausini, alle misure. Oggi un paziente infetta meno di una persona, ovvero lo 0,83%. E tutto questo perché? È semplice, perché c'è questo distanziamento sociale che alla fine di febbraio, inizi di marzo, quando si era cominciato a parlare di questo virus, ma che nessuno ancora aveva incontrato, è di conseguenza un po' così, alla chetichella, alla carlona, un po' l'abbiamo preso un po' sotto gamba, un po' tutti. E quindi, però adesso che sappiamo esattamente come muoverci e con quali strumenti, ovvero mascherine, guanti e quant'altro, ma soprattutto con il distanziamento sociale, abbiamo fatto sì che questo virus sia meno aggressivo. Intanto c'è una cura che promette bene e la spiega Piero Sestili, dell'università, che è un professore associato di farmacologia all'Università di Urbino, che ha svelato che in alcuni ospedali italiani si sta combattendo il coronavirus con una grande efficacia, grazie a degli antivirali mirati. E' un mix di cortisone e antivirali. E lui dice che l'Italia ha il dovere di sviluppare e promuovere strategie alternative, e quindi aggiuntiva quelle in atto, perché dopo 45 giorni dal lockdown, la curva dei contagi scende più lentamente del previsto e il numero dei morti resta comunque abbastanza elevato. Al via uno studio immunologico, invece test sul personale sanitario, tra domani e mercoledì, i primi esami sugli operatori dell'azienda Marche Nord. La Regione aderisce alla sperimentazione nazionale, ma avvia il progetto autonomo. I positivi tra il personale sono stati registrati 131 contagi. Il test immunologico sugli operatori della sanità regionale ha un valore di studio su una popolazione particolarmente esposta al contagio e anche di tutela dello stesso personale dei pazienti. I soggetti che risultassero positivi avrebbero sottoposti a tamponi di conferma. Nelle Marche sono rimasti contagiati 558 sanitari, di cui 3 purtroppo sono morti, secondo quanto ha riferito Ceniccioli due settimane fa. A Marche Nord non c'è stato alcun decesso tra il personale in servizio. Contagiati però 71 infermieri, 31 medici, 14 operatori sociosanitari e altri 15 addetti. 131 dunque in totale. All'ospedale di Urbino 80 invece sono gli operatori tuttora infetti. E tra chi lo è stato c'è anche il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzzi, che finalmente dice sono fuori da oggi torno full time, cioè a tempo pieno. Il sindaco ufficialmente è guarito dopo 41 giorni di isolamento, mi ero abbastanza spaventato avendo subito un importante intervento cardiaco. Il 17 marzo racconta lui, dopo essere tornato da una lunga giornata di lavoro, arrivato a casa mi ero sentito addosso a una strana spossatezza e ho immediatamente misurato la febbre, da lì poi racconta da Eugenio Gulini un po' quello che è successo e quello che è stato il suo decorso della malattia. Per quanto riguarda l'area vasta, la tessera sanitaria, il ritiro soltanto dietro appuntamento, l'area vasta 1 al fine di scaglionare l'utenza e di ridurre al minimo il tempo di permanenza agli sportelli, informa che chi ha la necessità di abilitare la tessera sanitaria europea alla funzione di carta nazionale dei servizi, prima di recarsi presso uno sportello di front office, quindi di persona, all'area vasta 1, per farsi identificare, deve trasmettere via email a questo indirizzo anagrafe.av1.sanita.marche.it la seguente documentazione, cioè un modello debitamente compilato che potrà scaricare sul sito dell'Asur Marche e poi la copia di un documento di identità, la copia della tessera sanitaria europea dopo aver fatto tutto quello che c'è da fare si deve aspettare insomma la risposta è fatto di vieto di recarsi allo sportello senza essere contattato dall'operatore quindi bisogna aspettare usiamo la bicicletta nella fase 2 invece nella pagina di farlo del Corriere Adriatico avremo salute e sicurezza, Forbici, l'associazione ambientalista che sponsorizza l'utilizzo delle due ruote chiede misure per la mobilità ciclabile in vista proprio della riapertura delle attività mentre sotto c'è un annuncio che fa il sindaco di Fano Massimo Seri che dice che da oggi ci saranno queste mascherine di tipo chirurgico certificate che saranno messe a disposizione gratuitamente dal comune di Fano agli over 65 anni chi ha più di 65 anni che hanno difficoltà a reperirle a tutte le famiglie con soggetti immunodepressi il comune comunica sulla pagina di Facebook che le mascherine si potranno richiedere telefonando a questo numero di telefono che vedete qui che vedete qui, eccolo qua, 0721 80 81 42 Buone spesa, verifiche su 130 famiglie da oggi ispezione a campione sulle dichiarazioni di 2.362 nuclei familiari 30 beneficiari riconsegnano l'aiuto dopo averlo richiesto molti sono stati consegnati dal sindaco di Pesaro Ricci sono state in tutto 2.362 famiglie pesaresi ad avere questo buono l'assessore Pozzi dice siamo riusciti a rispondere positivamente a tutte le richieste che ci sono arrivate senza escludere nessuno intanto Luca Pieri, presidente di Aspes delle farmacie comunali dice così proteggiamo i lavoratori abbiamo pronto tutto ciò che servirà per la sicurezza dei dipendenti e delle aziende che rientreranno al lavoro e a proposito di lavoro risveglio Italia per assistere i professionisti di domenica insieme ad altri intestatari di partite IVA ha elaborato un documento di proposte e di iniziative da Pesaro dunque parte questa proposta di legge dal titolo Risveglio Italia elaborata dal popolo delle partite IVA nel documento di oltre 20 pagine vengono specializzate tutte le misure che per il gruppo delle partite IVA pesaresi che l'hanno formulato andrebbero introdotte per far ripartire un po' il paese dopo che il trauma del coronavirus dicono ci ha messo in ginocchio e ha fatto emergere tutta la nostra vulnerabilità la proposta di legge indica 1000 euro al mese nette per tutti i lavoratori di partite IVA fino a 5 addetti estensibile fino a 9 addetti 4 milioni di attività che occupano da 9 a 14 milioni di italiani inoltre tutti i costi vivi dalle tariffe delle utenze agli affitti, all'assicurazione, ai tributi locali insomma tutto quanto a fondo perduto o in tasse se non ci fossero le coperture finanziarie ma anche tutti i ricavi e gli incassi nel calcolo del rimborso delle spese dello Stato per 12 mesi insomma ovviamente è una richiesta altissima sembra quasi un'utopia ma comunque insomma trattandosi di una richiesta ad avanzare allo Stato è meglio puntare in alto per poi abbassare il tiro ma comunque questo è quello che chiedono appunto i rappresentanti delle partite IVA intanto il diluvio delle casse integrazione i soldi non bastano ben 2539 aziende in provincia a Pesaro hanno chiesto la cassa in deroga Rossini della Cigelle dice oltre alla regione deve pensarci anche lo Stato noi siamo al di là dei turni e delle entrate differenziate l'obiettivo comunque è la salute la linea da seguire per i lavoratori è il documento del Politecnico di Torino poi da Montelabbate invece l'appello di un piccolo imprenditore dell'arredo che dice ho gli spazi fatemi riaprire ho un capannone di 4000 metri quadrati tra un macchinario e l'altro ci sono 8 metri di spazio l'angelo sopravvissuto ora datemi una moretta è il settantenne ospite di Famiglia Nova la casa di riposo di Fanno dove sono morti 15 anziani per colpa del virus la felicità della sorella che non ha chiuso occhio in tutti questi giorni in queste notti finalmente il sollievo pensare che i medici dice la responsabile De Angelis ci avevano detto di non farci illusioni ora speriamo anche per altri due Feduzzi il sindaco farmacista sì perché Feduzzi oltre ad essere sindaco quando non faceva il sindaco comunque fa e anche quando fa il sindaco perché fa tutti e due è farmacista quindi ha una farmacia a Calcinelli di nuovo in sella dopo 41 giorni di isolamento può tornare ad amministrare Fermignano in realtà non ho mai smesso dice lui il 7 marzo racconta poi i primi sintomi influenzali la quarantena in casa non vedevo neanche mia moglie e poi la notizia di una donna pensionata rinvenuta in casa in via Fratelli Bandiera a Pesaro una donna di 78 anni le mascherine gratuite da oggi in otto quartieri titola il Correa Adriatico saranno due a testa e la distribuzione si concluderà nella giornata di domani gli anziani, malati le persone in difficoltà ne potranno però richiedere di più intanto genere alimentare in dono a chi ne ha bisogno se ne occuperà la Caritas Diocesana di Pesaro come funziona? quando si va al supermercato andate al supermercato a Pesaro se trovate un carrello destinato a questa iniziativa potete metterci zucchero, latte, farina olio di oliva legumi e tonno in scatola la raccolta proseguirà fino a venerdì 24 ogni sera alle 18 gli operatori della protezione civile e volontari della Caritas si recheranno nei supermercati che hanno diritto a questa iniziativa per recuperare i generi alimentari che sono stati lasciati in dono nel carrello e poi distribuiti appunto alle famiglie in difficoltà intanto la dirigente del liceo artistico Marangoni di Pesaro ringrazia i volontari della protezione civile la scuola chiede aiuto e la protezione civile risponde con prontezza e con gentilezza e con sorriso dice Serena Perugini del Mangaroni che ringrazia l'assessore Belloni e tutti quanti perché insomma la protezione civile si è data da fare per la consegna del materiale didattico chiudiamo con questa fotografia che è la fotografia di uno dei punti sotto osservazione osservati speciali punti a Pesaro in Via Lamarca e il Cavalcaferrovia ora chiedono attenzione per il ponte su Via Canale una struttura molto vecchia vetusta con crepe ben visibili come si può vedere da questa fotografia sotto invece ecco un particolare sempre dell'arcata che insomma non è messa o perlomeno visivamente non è che è molto rassicurante poi chiaramente ci vuole un ingegnere qualcuno che se ne intenda che ci possa dire sulla stabilità o meno di questi punti e questo credo che sia una cosa fatta o comunque che sia in programma noi ci fermiamo qui sono 8.05 perché ci seguo in diretta grazie per la vostra cortese attenzione vi ricordo l'appuntamento di questa sera avete trattato con il territorio giornale poi sempre nel nostro paninsesto abbiamo tante cose interessanti che vi invito a seguire alle 10 e alle 16 abbiamo un nuovo appuntamento che dà la possibilità a tutti voi che siete in casa di rimanere in forma dopo quello con con le nostre due istruttrici ce n'è un altro che parte oggi sempre un appuntamento con la ginnastica vecchio sarei tu anziano sarei tu la cosa del genere adesso non me lo ricordo con esattezza forse Riccardo può venirmi in soccorso anziano sarei tu vecchio va bene però anziano sarei tu quindi l'ho già visto è un bel programma è fatto molto bene quindi vi invito a seguirlo in collaborazione con ASI e poi abbiamo tutti gli appuntamenti con le sante messe con i rosari insomma c'è tanto anche per questa nuova giornata e per questa nuova settimana che iniziamo insieme buona giornata a tutti e arrivederci stasera